Buongiorno, sono Margherita Micheletti, sono un ricercatore del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologi dei Cistemi. Ho avuto in questi giorni l'esperienza di ospitare due classi di bambine e bambine all'università ed è stata un'esperienza molto simpatica. I ragazzini sono frissanti, attenti e molto molto curiosi. Noi ricercatori avremmo dei compiti istituzionali che diventano sempre più importanti dal punto di vista della quantità di lavoro e della qualità del lavoro. Dovremmo fare molta ricerca, poca didattica e in realtà facciamo anche molta didattica. Nell'ambito della didattica bisogna anche dire che questa è una didattica speciale, è un'apertura al mondo esterno che piace molto a molti di noi. Ci donano molto questi bambini perché ci fanno vedere la loro capacità di capire cose difficili, che cerchiamo di certificare ovviamente, ma fanno domande, sono molto partecipativi e la cosa più bella è la voglia di conoscere, se lo smettono, e la curiosità, la loro fantasia insieme alla curiosità, dalle quali forse possiamo imparare qualcosa anche noi. Con curiosità e fantasia si può fare una migliore ricerca.